Una vecchia condotta con aria continua a scaricare liquami in mare, in via marina del mondo, nei pressi del canile comunale di Monopoli. La mara scoperta è stata fatta nei giorni scorsi da alcuni cittadini monopolitani che attraverso la nostra redazione di The Monopoly Times denunciano queste inobiltà. Dal video esclusivo che vi proponiamo è possibile infatti constatare che l'acqua torbida va a mescolarsi con quella del mare. Questo potrebbe così giustificare il cattivo odore che rende irrespirabile l'area nell'intera zona circostante. Auspichiamo perciò che questa segnalazione faccia da monito per le autorità competenti, in cui confidiamo per i dovuti accertamenti che vorranno eseguire sul caso per appurare l'accaduto, ma soprattutto per risalire all'identità dei presunti responsabili di questo scempio. La mara scoperta è stata fatta. La mara scoperta è stata fatta.